Conoscere gli spostamenti degli escursionisti ed istituire l'obbligo di comunicare la loro presenza agli uffici preposti del comune. E' l'idea che arriva da Sanza dopo i fatti accaduti la scorsa estate con la tragica morte dell'escursionista francese Simone Gauthier. Per questo l'amministrazione comunale di Sanza sta valutando la possibilità di obbligare gli escursionisti sul territorio a segnalare la loro presenza all'arrivo presso l'ufficio turistico del comune. Credo sia necessario che chi arriva nel nostro comune che ha una vastità di oltre 12.000 ettari di territorio, oltre 10.000 ettari di montagne e boschi, ha dichiarato il consigliere con delega al turismo Angelo Marotta, segnali la propria presenza in modo da avere un controllo costante della presenza degli escursionisti sul territorio. Questo favorirebbe in caso di emergenza di sapere dove dirigere eventuali soccorsi. Secondo i dati diffusi dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpine Speleologico, nel 2018 sono state effettuate oltre 9.000 missioni di soccorso nel nostro paese, di cui tre quarti in territorio montano ed impervio. In un territorio come il nostro, ha continuato il consigliere comunale, dove non c'è di fatto la disponibilità immediata del soccorso alpino, è necessario che l'attivazione di un servizio di soccorso possa essere indirizzato in tempi brevi nelle aree di prossimità, dove presumibilmente un turista può trovarsi. Va considerato inoltre che molte aree delle nostre montagne non sono neppure coperte da segnale telefonico, questo è un elemento non secondario. Presto dunque l'amministrazione emanerà un'ordinanza che imporrà a tutti coloro che accedono al Cervati di segnalare presso l'ufficio turistico del Comune la propria presenza, con giorno ed orario di arrivo e luogo di destinazione.